Ho rincato tutte le maglie delle 60 squadre di serie C per la stagione 2024-2025. Nelle scorse settimane sono andato a fare la stessa cosa per serie A e serie B, chiedendovi se avreste apprezzato una tier list dedicata alle oltre 150 maglie della terza serie italiana. E quindi eccoci qui! Metto subito le mani avanti dicendo una cosa importantissima, ossia che nella maggior parte dei casi ho fatto una fatica incredibile a trovare delle immagini anche solo lontanamente decenti, e per un paio di squadre non sono nemmeno sicuro di aver selezionato le maglie della stagione in corso. Però vi giuro che ho guardato tutto, sito web, Instagram, Facebook, se confrontavo ciò che trovavo con Football Kit Archive le cose non corrispondevano. Non ci ho capito niente! Dovessi aver sbagliato qualcosa chiedo scusa in anticipo, ma torniamo a noi. Questa tier list sarà divisa in 5 livelli. Pog per le migliori maglie della stagione, Good per le maglie belle ma non eccellenti, Ok per quelle sufficienti ma che non mi suscitano nessuna emozione, Me per quelle che non mi convincono del tutto, e infine Eu per proprio quelle che mi piacciono di meno. Eh, sappiate che nell'esprimere giudizi mi baserò unicamente sul mio gusto personale. Per quanto il mondo delle maglie da calcio sia una mia passione, non sono un esperto, quindi no opinioni, solo fatti. No che stupido, al contrario, vabbè avete capito. Ciancio alle bande, allora scopriamo chi, secondo me, ha la miglior maglia in serie C. Ah, ultima cosa, non andrò a fare un'unica tier list, bensì tre separate, una per ciascun girone. Una tier list con 157 maglie sarebbe stata ingestibile, per chiarezza preferisco splittare e poi, alla fine, dirvi la mia top 3. Cominciamo quindi dal girone A, dove andando in ordine alfabetico la prima squadra da osservare sarà l'Albinoleffe. Albinoleffe che io personalmente ricordo per il periodo passato in serie B, intorno alla fine degli anni 2000, e la prima maglia dell'Albinoleffe è una maglia dell'Albinoleffe, cioè abbiamo il solito azzurro chiaro con i dettagli blu scuro. Però non sono dettagli che mi fanno impazzire, ste righine che vanno in dissolvenza e riprendono sotto, meh. Per il momento va in ok, poi vediamo se spostarla. La seconda maglia invece non ho capito se sia effettivamente la seconda maglia, ma sa molto di kit generico. Però questo grigio antracide, col grigio un po' più chiaro, bello, bella combinazione di colori. Quindi considerando anche che più avanti andremo, peggio saranno le maglie, io questa la metterei per il momento in good. Fatto l'Albinoleffe, passiamo all'Alcione Milano, la terza squadra di Milano, che si presenta con tre maglie incredibilmente flat. La prima è tutta arancione con le righe adidas bianche, bello il logo però. La seconda è interamente bianca con le righe adidas arancioni, bello il logo però. Infine la terza è grigia con i dettagli arancioni, ma il logo è diverso. Perché? E guardate, anche solo per la scelta di colori abbastanza atipici nel mondo del calcio, perché comunque l'arancione, il grigio, non è che si vedano tantissimo. Per il momento metterei in ok la prima e la terza, mentre la seconda in me. E dalla Lombardia passiamo al Veneto, per l'Arzignano Valchiampo, che per nostra fortuna mette entrambe le maglie in un'unica immagine. Posso dire una cosa sull'Arzignano Valchiampo? Ha una combo di colori meravigliosa. Giallo accesissimo con l'azzurrino molto tenue e poi il nero per i dettagli che dà il pugno in faccia. Molto bello. E lo so che qualcuno potrebbe dire, ma no, ci sono troppi sponsor tier, come fa a piacerti sta maglia? In Serie C le squadre hanno assolutamente bisogno di tutti questi sponsor per sopravvivere e quindi diciamo che gliela passiamo come buona. Ovviamente purché non si hanno applicati in maniera appropriosa, eh. Quindi la prima, io ve lo dico, follia totale, la metto in pog anche soltanto per l'abbinamento di colori. La maglia è semplicissima, ma i colori mi piacciono da matti. Mentre la seconda si presenta con degli scacchi tono su tono. E comunque come maglia non mi dispiace, secondo me è più o meno al livello di quella dell'Albinoleffe e la metto un po' dietro perché semplicemente mi piace il grigio antracite. Però rimane comunque in good. Passiamo all'Atalanta Under 23 che sì, ho inserito all'interno di queste tier list, così come ho inserito il Milan Futuro e la Juventus Next Gen, ma probabilmente non andrò a classificare. E questo perché ve lo dico? Perché sono maglie realizzate per squadre che giocano in Europa, non in Serie C. Quindi secondo me proprio si parla di uno standard completamente diverso, non ha senso metterle a confronto con le altre. Però posso dire una cosa, cioè lo sponsor bianco e non il pataccone rosso di Lete e leva questa maglia in maniera incredibile. Passiamo quindi al caldiero. Caldiero Terme che si presenta con questa maglia che uno vede e dice Tier, conoscendoti, non ti piace. Non so perché, ha quel qualcosa di particolare che me la fa piacere. Sarà la combo di giallo-verde che si presta a questo tipo di lavoro in dissolvenza? Può essere. Sarà lo sponsor Berti che ci sta da matti? Anche! Forse ve la sareste aspettata in me barra eu? Per me questo è good. Forse sono i colori, vi giuro, forse sono i colori. Ma è good. Mentre la seconda mi piace ancora di più. Guardate la maglia che bella. Abbiamo lo stesso identico motivo sulle spalle. Abbiamo questa croce impreziosita da un pattern tono su tono di quello che suppongo sia lo stemma comunale. Caldiero Terme. Pog. Dopodiché Splendori tocca alla Feral Pissalò che si presenta con le stesse maglie che ha usato l'anno scorso in Serie B. Molto belle, eh, come maglie. Anche qui credo che la combo verde-blu contribuisca molto, ma proprio belle, belle maglie. E anche loro quindi mi finiscono in Pog. Forse più eleganti rispetto alle altre, quindi le metto addirittura al primo posto. No, come non detto l'Arzignano, mi piace un casino. Seconda maglia invece che richiama l'Acciaio ed è quindi colore grigio molto clean, molto pulita anche questa. Io la metterei in good davanti alla seconda dell'Arzignano. Terza maglia della Feral P. Ora, mi rendo conto che sia stata votata da una community. Mi rendo conto che non sia stata pensata come maglia seria, ma questa proprio non mi piace. Dopo due maglie elegantissime ma è questa pataccata incredibile. Comunque è una maglia che per me va in EU. No, cioè, è fuori luogo. E ora, signori, si va a Gorgonzola per le maglie della Gianna Erminio. E qua mi rendo conto che sia una capolata che ovviamente importa soltanto a me. Però non puoi tu di Gorgonzola avere come sponsor un caseificio che produce mozzarella. Ci sono queste lievi righine che ricordano molto, anzi, ovviamente sono esattamente loro, visto che lo sponsor tecnico è Macron, la terza maglia dell'anno scorso del Bologna. Qua, quantomeno, sono tono su tono e non dà un fastidio. Però, ecco, strana tonalità di blu considerata la Gianna. Maglia da compitino. Stesso compitino che tra parentesi ritroviamo anche sulla maglia rossa. Va che bello, Michele Trombetta. Comunque sì, lo stesso pattern c'è sia sulla seconda maglia che è rossa che sulla terza che è intera... Oh no, in realtà la terza è diversa. Particolare il fatto che non abbiano optato per maglie azzurro barra blu scuro. Le ha sempre avute la Gianna. Non so come mai abbiano escluso questo colore qua, questa tonalità qua, ma va bene così. Ripeto, tre maglie da compitino e nessuna di queste la ritengo entusiasmante quindi mi finiscono tutte in me davanti all'alcione per il semplice fatto che almeno hanno un po' di carattere queste. Dopodiché Lecco! Ah yes, il derby Lecco-Gorgonzola. Il mio preferito. Beh, comunque il Lecco si è presentato proprio con una maglia standard che tra l'altro è similissima se non identica a quella che ha avuto l'anno scorso in B. In realtà no, è diversa. Il numero di strisce è differente, il colore è differente. Ah, ma c'hanno anche una terza maglia. E questa non c'era l'altro giorno quando ho raccolto le immagini. Allora, non c'è in tier list ma immaginatevela in me questa mentre la home nella sua semplicità non eccelle e quindi mi finisce in ok accanto all'albinole F anzi davanti all'albinole F. La seconda devo dire che oh, non mi dispiace ma la preferivo con la banda diagonale la seconda. Quindi metto in ok pure lei davanti alla home. Dopodiché signori l'incubo lumezzane e voi direte vabbè Tia dove sta il problema? Non c'è nulla di male in questa maglia e vi dico avete ragione perfetto sapete che nella prossima si vede di più e soprattutto nella terza si vede soltanto quello mio Dio F.C. Lumezzane F.C. Lumezzane F.C. Lumezzane F.C. Lumezzane F.C. Lumezzane però posso dire una cosa non so di cosa si occupi il signor Camozzi ma se è tipo un'officina o una ditta che produce utensili da lavoro il logo è bellissimo cioè tipo una chiave inglese nascosta qui un po' come la freccia nel logo di FedEx bello, carino comunque prima maglia ok si nasconde le F.C. Lumezzane quindi non è male la seconda un po' pesante ma va bene la terza no quindi la prima va in ok tra Lecco e Albinoleff la seconda va in anche ok ma un po' più indietro la terza per favore ultimo posto e andiamo avanti Novara ecco ma si può che il Novara abbia lo sponsor del Gorgonzola e non la Giana che è di Gorgonzola vabbè smettiamola di parlare di Gorgonzola maglia semplicissima proprio anche questa qui maglia da catalogo però a vederla considerato anche lo scudo utilizzato secondo me è tipo un centenario in realtà no è da qualche anno che usano soltanto quello ok ritiro tutto però si maglia con pitino ma con pitino pigro guardate la metto in me dietro alla prima del Gorgonzola la seconda invece dai ha qualcosina in più ha il collettino caruccio ha i bordi delle maniche fatti in maniera decente ha la scella in dissolvenza un po' come la seconda maglia del Lecce di quest'anno dai questa ci sta bravi ok devo risistemare un po' di roba perfetto tutto giusto dopodiché Padova è il Padova con un paio di maglia cucinato la prima sarà semplicissima ma davvero gran classe abbiamo anche lo scudo che si rivede in tono su tono leggerissimo anche con lo sponsor è una maglia comunque accettabile maglia very good la seconda invece è un po' la maglia di Rorschach perché se la guardi sembrano macchia caso in realtà no ci sono una serie di riferimenti a monumenti ed edifici vari della città però almeno c'è l'impegno e io l'impegno l'apprezzo quindi fosse stata la serie B sarebbe finita in me invece qua se la cava addirittura con un buon ok la terza invece secondo me è un'opportunità sprecata se non ricordo male l'ispirazione dovrebbe essere l'orto botanico dell'università di Padova ed è carina come maglia se soltanto il logo non fosse stato monocromatico questa l'avrei messa in POG anzi ce la metto lo stesso in POG dietro a quella del caldiero terme però bowling FC pardon pergo le tesi di cui vedo soltanto bowling pegaso posso dire una cosa su ste maglie perché guardandole tutte assieme la prima la seconda e la terza sembrano maglie del Chievo Verona ora non la terza perché è un po' lo stesso discorso che abbiamo fatto per l'Albino Leffe ma con due colori che e quindi per me questa va in me questa è letteralmente una maglia del Chievo un anno l'hanno avuta identica e la prima ci sta ci sono le pinstripe dai buon lavoro Ioma vi metto la prima in good dietro al Padova la seconda ok tra il Novara e il Lumezzane propatria della propatria ho soltanto dei render così come li avevo del Lumezzane però sì c'è la maglia della propatria mi danno fastidio il colletto che non è interamente rosso o comunque dove è bianco non è interamente bianco perché lascia comunque una stessa di rosso mi dà fastidio il polsino perché uno non finisce con la cucitura ma finisce più in alto e due si fa interrompere dalla banda è un disastro cioè in questa zona è un disastro solo per il disastro guardate EU ma perché è proprio inguardabile la seconda maglia è una seconda maglia per quanto il colletto si è ancora disastrato i bordi delle maniche dai loro si salvano non mi fa impazzire cromaticamente però questo rosso col dettaglio bianco azzurro e la metto in me la terza maglia con questo nero grigio nascondo un attimino un paio di difetti che però ci sono ancora è la migliore delle tre a mani basse ma basso è anche il giudizio quindi guardate vi metto in good davanti a Lumezzane 2 Provercelli e la Provercelli da quanto ho capito ha tre maglie ma della seconda hanno trovato foto pertanto questa è la prima maglia bianca però vi ricordo che come disse una volta un grande saggio meglio niente che qualcosa ok perché è letteralmente compitino ma di più non posso metterli la terza invece ho questo colletto così con il laccio molto vintage bel lavoro con questa maglia complimenti poi vabbè la Provercelli ci sta che abbia questi richiami molto vintage non la ritengo da pog ma in cima al good è giusta però non posso mettere questa in good e questa in pog eh Padova mi spiace Renate che no non è una signora di nome Renate ma è una squadra brianzola ora al di là di Puma PNG all'interno del logo non mi piacciono le strisce verticali che partono larghe e diventano strette allora è una buona reinterpretazione non mi stupirei di vedere una delle strisciate in serie A fare questo nel giro di qualche anno ma la dissolvenza no comunque ok eh perché non è una brutta maglia anzi tra Padova e Albinoleffe la metto ah yes training kit del Brescia ecco i vibes che mi dà la way del Renate maglia blu con dei dettagli blu più chiaro e l'oro ok non mi piace l'oro sulle magliette dovreste saperlo nerd sal però dai c'è nettamente di peggio quindi anche questa qua mi finisce in ok la terza io non ce la posso fare quando vedo oro su bianco impazzisco per il resto è una maglia iper flat eh non c'è nient'altro però la metto in me giusto perché oro su bianco non lo sopporto è il momento dei miei cugini di Trento che saluto tantissimo perché mi dispiace ma cosa vi hanno fatto alle maglie quest'anno cioè guardate che belle le maglie degli scorsi anni l'anno scorso clamorose la prima e la seconda anche due anni fa la prima ok la seconda bellissima con quelle maniche e allora perché presentarsi con questa roba quest'anno no se strisciamo di aurora boreale non mi piacciono Trento mi spiace ma questa va in EU non EU come il lumezzane ma EU poi buono finito la creatività perché dopo questa abbiamo la seconda maglia è bianca la terza maglia è arancione però capite poi non posso mettere la Provercelli qua e le altre no basta ho cambiato idea guarda qua che la Giana e il Novara guadagnano uno scalino mentre Provercelli e Trento mi scendono qui ma io sto parlando troppo devo muovermi ho altre 40 squadre perciò vai con la Triestina che si presenta con due capolavori di K la prima meravigliosa con l'alabarda ripetuta sul colletto proprio bella 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 e la seconda se possibile è ancora meglio queste strisce verticali che sembrano quasi tono su tono in realtà è un grigio molto chiaro maglie clamorose comunque la seconda mi piace più della prima ma non posso non metterla prima in seconda anzi no l'Arzignano ha quei colori che mi piacciono da matti vai Triestina uno va terza però migliori maglie del girone a mani basse e dalle vette toccate da Triestina passiamo all'Union Clodiense che cioè no a parte che letteralmente la base della maglia è il training kit che l'anno scorso aveva il Suttirol ma poi chi è sta roba ma mettimela tono su tono non bianca che pataccone guarda sicuramente vai in EU non so se metterti ultima sì direi di sì almeno quella del Lumezzana ha le finiture decenti poi stesso discorso per la seconda maglia che però non ha il pataccone ma la base rimane sempre quella quindi guarda mi vai qui per una questione cromatica a Vicenza credo l'unica squadra al mondo con le maglie prodotte da fila e la prima devo dire che mi piace parecchio si vede le strisce rosse un qualche dettaglio di un qualche palazzo mi verrebbe da dire però è una maglia obiettivamente ben fatta certo non va a strafare ma meglio così prima del good seconda maglia che un pochettino mi ricorda quella del Suttirol perché hanno un pattern molto simile in tono su tono però è Vicenza che si è presentato davvero con delle belle maglie non eccellenti ma tutte quante molto belle sia la seconda che anche la terza che però delle tre è quella che mi convince di meno per via di questi grattoni qua e là in ogni caso good anche la seconda la terza pure ma in fondo coperta dalla webcam infine ultima del girone a la Virtus Verona che con la prima maglia ha fatto un buon lavoro carino l'elemento dei mattoni qui in basso è comunque maglia molto semplice è bella la tonalità di colori un pochettino più chiara rispetto a quella dei colori sociali reali però good anche lei questa qui mi va tra Padova 1 e Pergolettese la seconda maglia invece è bianca con dettagli dei due colori fine oserei dire ennesimo esempio di ok nulla di più quindi splendori questa è la tier list del girone A passiamo al girone B di serie C e il girone B che è quello del centro Italia si apre con l'Arezzo Arezzo che tra l'altro per la prima maglia ha fatto questa eh però da qua non si capisce niente stavo parlando di questo inserto che fa riferimento a suppongo la basilica la cattedrale della città un po' troppo pesante all'occhio se posso permettermi perché più piccolo lo avrei anche apprezzato anche solo sulle maniche anche sui fianchi è quasi troppo invadente io la metto in ok infinitamente più semplice la seconda con questa fascia diagonale tra l'altro con lo sponsor che si adatta alla perfezione e io questa cosa la amo perché non tutti gli sponsor purtroppo accetterebbero una soluzione simile good infine terza maglia che è nera con i dettagli eh amaranto vero? comunque maglia ok però per il motivo opposto perché se questa è esagerato questa fa quello che deve fare compitino ascoli l'unica squadra che si presenta con quattro maglie e non ne ha azzeccata manco una la prima per me ha dei problemi nei dettagli perché cioè questi baffettini dorati ma perché non finiscono in corrispondenza della linea dorata qua? qua poteva anche aver senso se come dettaglio di un bianco nero invece no no errore strutturale me seconda maglia è bianca però è la migliore delle quattro ti premio con un bello ok basso ma ok la terza maglia io poi non la concepisco la manica grigia l'oro ovunque ascoli per favore io questa non ce la posso fare però è un peccato perché a me il grigio piace nelle maglie ma così no infine quarta maglia è gialla con un colletto inguardabile ascoli complimenti dopodiché l'unica squadra professionistica molisana cioè il campo basso che al di là della confusione che mi ha causato lo scudetto perché ho detto ma che ci fa lì cosa hanno vinto? hanno vinto la serie D l'anno scorso apprezzo il fatto che utilizzino come logo non quello effettivo ma questa lupa qui e lo so che tutti voi vi starete chiedendo ma ti ha gli sponsor come sono applicati? in maniera normale nessun pataccone per fortuna oddio in realtà i patacconi ci sono nella terza ma ci arriviamo a parlare della terza intanto la prima non è malaccio la seconda ancora più bella secondo me con questo pattern in stile arazzo sul bianco e poi la croce rosso-blu not bad la terza invece perdonatemi ma non mi piace perché al di là del concept usato strausato della mappa della città troppo scuro il colore della città più gli sponsor applicati in quel modo good la prima molto good la seconda e la terza non come l'ascoli ma e la terza carpi madò il carpi di jerry mbakogu che memorie comunque il carpi si presenta con una maglia bianca dei tagliucci molto sottili rossi fine maglia flat maglia molto flat ma mai quanto la seconda questa è letteralmente maglia catalogo 64 punto pdf quindi la prima va in ok mentre la seconda va in forse me per la semplicità esagerata forse me va ben così perfetto gubbio il gubbio si presenta con questo logo incredibilmente vecchio ma che secondo me ha il suo fascino e quindi nella speranza che il gubbio non faccia mai robe troppo moderne con le proprie maglie la prima è classica semplice la seconda molto elegante con queste strisce sottili in orizzontale rosso e blu forse rosso e nero non riesco a capire la tonalità sinceramente pertanto good la prima dietro all'arezzo e abbiamo il primo pog del girone b signori la away del gubbio legnago ho trovato solo una maglia del legnago ne hanno una seconda una terza boh io non le ho trovate però al di là di questo regà non è che sia chissà che grande maglia anzi sembra pure fatta male non tanto a livello di design quanto proprio a livello di materiale non lo so è un'impressione forse la luce ma che è sto sponsor tecnico poi vabbè al di là di quello ok c'è me sotto alla seconda del carpi lucchese prima maglia normalissima maglia strisce bianco nere e la seconda è una maglia bianca con i bordi neri e il logo in negativo che sembra quello della stone villa boh sono due maglie iper semplici magari qua c'è un pattern che non riesco a vedere ma è uno screen del video che hanno caricato su instagram io di più non posso fare ok la prima ok la seconda la prima è molto caruccia però secondo me c'è qualcosa e non è neanche un bianco è un crema cremoso mi piace mi piace il milan futuro stesso discorso dell'atalanta ma credo che realisticamente sarebbe stato pog pog me perugia la prima maglia secondo me vuole strafare perché ci sono almeno tre concept che da soli potevano andare bene così c'è troppa roba al di là di questa terrificante banda che passa da scella a scella hai le pinstripe hai questo motivetto a modi tessere di domino che rendono la striscia più chiara più scura hai il grifone sulle maniche c'è troppa roba così mi convince poco perché è troppo rimane comunque una bella maglia soprattutto rispetto a tante altre che abbiamo visto finora ti metto qua davanti all'arezzo ma c'è troppa roba la seconda invece beh 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 allora premesso che queste eliche di dna non mi fanno impazzire tantissimo adoro i bordi delle maniche sono proprio belli 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 per il resto maglia bianca e lo so che qualcuno di voi potrebbe dire ma tiar scusami perché tutte le maglie bianche le metti in alto perché è difficile sbagliare una maglia bianca o hai dei dettagli davvero orribili se non inesistenti o sbagliarla è pressoché impossibile e poi terza maglia perugia che mi ricorda un paio di jeans sì è vero ci sono i grifoni in tono su tono non li avevo notati fino ad ora grazie per avermelo detto peculiare come scelta non la mia maglia preferita però almeno ho un po' di inventiva quindi ti metto in ok per la particolarità ecco non di più pescara oh e qua abbiamo la seconda pog di questo girone questa è veramente veramente bella questo pattern che ricorda molto una corrente d'acqua all'interno delle strisce azzurre il logo del delfino che è gratton cosa gli volete dire quel nome era avanti anni luce altro che per il resto bella maglia del pescara semplice ma se ci metti quel dettagliuccio si eleva tanto la maglia pertanto pog davanti a quella del gubbio la seconda e la terza invece non mi fanno impazzire perché riprendono entrambe questo motivetto dell'onda e sicuramente rende meglio su quella blu scuro che su quella rossa però comunque non è il mio genere di maglia questo guardando un attimino gli standard vi dico questa mi finisce in good davanti a quella del perugia l'altra mi finisce in me però davanti alle altre perché almeno ha una bella tonalità di rosso pianese ho dovuto guardare il nome non mi ricordavo come si chiamasse sta squadra che però vabbè la prima nera che poi fada verso il grigio chiaro in fondo alle maniche in fondo proprio al busto lasciando spazio a questi cubi di escer dai ci possono stare non meravigliosa però eh gli sponsor non aiutano purtroppo ti metto in me dietro al pescara la seconda invece è praticamente quella dell'ascoli stesso identico vibe sponsor posizionati peggio però e la terza più la guardo più mi ricordo la maglia che aveva fatto l'otto qualche anno fa per l'offenheim questa è una maglia dell'offenheim più bella delle altre due però devo ammettere che mi piace ha almeno un dettaglio particolare ce l'ha oh no lumezzane 2.0 pineto calcio 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 lo sponsor che si nasconde con le strisce ragazzi qua signor pineto insomma già meglio nella seconda cos'è sta roba sotto le scritte calcio pineto oh madonna oh madonna signor pineto what the fuck cosa mi sta combinando signor pineto per favore le peggiori del girone allora la prima va in EU tra campo basso e ascoli l'altra va davanti al campo basso questa è proprio la peggiore in assoluto marò povero pineto ponte d'era del ponte d'era ho letteralmente una maglia ce l'ha una seconda probabile non ho trovato immagini decenti ingiudicabile per me la prima invece riprende il titolo di un articolo di giornale pubblicato dopo che il ponte d'era aveva battuto la nazionale italiana in amichevole devo ammettere che una volta indossata e sudata non si vede molto sembra semplicemente un paternino caruccio ci sta buon lavoro good dietro anzi davanti al campo basso rimini e il rimini mi ha cambiato il logo per l'ennesima volta non so perché era così bello quello che avevamo prima per il resto è una maglia del rimini cioè proprio a quadri nulla di esagerato nulla di troppo va benissimo bella maglia quindi questa guardando anche quello che arriva si dai la metto in good a differenza della seconda che invece è lontanissima dal pog anzi blu scuro che ci sta per il rimini tutto giusto per carità però poi questi quadri fatti con i quadrati cioè no questa mi convince davvero poco quindi meh dietro al pescara davanti alla pianese infine la terza maglia è uno di quei rari esempi in cui la maglia bianca non mi piace perché perché odio quando vengono messe le foto del pubblico nelle maglie porca miseria non ricordo quale squadra fosse ma qualcuno aveva messo come pattern un po' nascosto l'onda sonora del coro quella è una figata quello è un bel modo per omaggiare il pubblico la foto così io non la sopporto i rimini guardate in fondo al meh in realtà neanche troppo in fondo qui ma perché quelle successive sono fatte peggio però insomma cestri levante una fatica per trovare le foto di queste maglie voi non ne avete idea comunque meh non mi fa impazzire il fatto che sia così evanescente la parte blu quindi meh meh però in cima dai ecco il motivo per cui vi dico che ho fatto fatica a trovare le immagini del cestri levante è che la seconda maglia l'ho trovata nella fotogallerie dell'albinoleffe vabbè comunque sembra una maglia del basilea piace di più della prima sì non va molto in alto nell'ok anzi è praticamente in fondo però ci sta SPAL società polisportiva Arset Labor che dai è una maglia della SPAL bellini bordi di maniche collette però forse un po' troppo con le strisce già strette comunque la maglia è ben fatta non gli si può dire niente e questa per me va in good tra l'altro anche parecchio in alto quindi qui e la seconda so che tanti l'amano tanti apprezzano da matti questa maglia a me non piace risaltano più gli sponsor del logo cioè fai quelli blackout e lo sponsor lascialo normale vedrai quanto poppa fuori poi ho peccato eh perché comunque grigio nero l'avrei apprezzato ma queste righine tipo tipo pettine mi vai dietro quella della pianese dopodiché signori ternana e le ferie hanno fatto un lavoro della madonna cioè guardate quanto è bella certo per carità è semplicissima perché si parla del centesimo anniversario perciò le maglie tendono a farle un po' più classiche però adesso non ricordo cosa sia la creatura raffigurata all'interno del logo della ternana ma quanto è bella applicata da sola per il resto maglia rosso verde che si distingue da praticamente ogni altra color combo in Italia questa va in pog ma non al primo posto e allo stesso tempo anche la seconda mi va in pog sono proprio belle le tre maglie della ternana anche questa qua semplice pulita bei dettagli su collette maniche pog pure tu guarda infine la terza è bella e ignorante perché abbiamo le scaglie del drago sarà un drago ripeto non ricordo cosa sia la creatura la bestia però ci sta a quel qualcosa che rende la maglia particolare peccato che il colletto non mi faccia impazzire all'interno di questa maglia che però si distingue tanto e in maniera particolare questo la rende una maglia da pog sì ragazzi è bella sono tre maglie da pog forse insieme alla triestina la ternana quest'anno ha le maglie migliori come set in serie C ma anche la prima maglia della torres non mi dispiace ora non so cosa sia questo sponsor tecnico ignorantissimo ma la maglia in sé per sé ci sta è una di quelle maglie come si chiamano bi partite ottimo lavoro sassari torres vammi in good davanti a rimini con la seconda facciamo una fatica bestia perché l'immagine è piccolissima ma adoro il bordo di maniche e pantaloncino molto belli però non ricordo esattamente cosa ci fosse sulla spalla ok è la stessa cosa che si vede sui bordi delle maniche ah e anche qui il pattern del logo è ripetuto bellina bellina davvero quindi questa qua va insieme all'altra anzi forse addirittura davanti perché mi piacciono molto i bordi Virtus centella allora la Virtus centella ha fatto tre maglie molto standard la prima classici colori nulla di particolarmente speciale la seconda nero oro ok ma hanno usato un logo più vecchio mi viene da pensare caruccio in ogni caso vedendo un attimino qual è l'andazzo io vi metterei la prima dell'entella in good la seconda anche good però un po' più avanti tipo tra il ponte d'era e la spalla la terza invece mi piace il fatto che abbiano utilizzato soltanto il diavoletto io amo queste applicazioni mi piace quando lo fa il Milan quando lo fa la Roma quando lo fa la Ternana proprio belli 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 però qua ecco il grigio sebbene sia un colore che mi piaccia molto non lo so mi gira la testa con questo volerlo far sembrare acciaio e quindi me anche la ma anzi no non posso ne metterti in ok ho maglie ben peggiori in me manca infine soltanto la vispesaro che si presenta con una prima maglia tutto sommato normale comunque maglia molto semplice è carino il dettaglio della striscia leggermente più scura all'interno della striscia grande maglia ok però non mi sbilancerei oltre l'ok seconda maglia di cui io invece non sopporto le mani che sembrano un tappeto non so mi danno l'idea di essere rigide queste magliette riconosco che sia da ok pure questa però siamo sulla stessa falsa riga di ciò che ha combinato la Feralpi infine terza e ultima maglia che a molti piacerà non è il mio stile per niente ma proprio niente affatto non so se metterla in EU o metterla addirittura no non la metto in EU la comprerai più volentieri di una qualsiasi di queste altre 5 maglie pertanto signori questa è la tier list del girone B di serie C passiamo quindi al terzo e ultimo girone il C della serie C gruppo C che è quello del sud Italia e partiamo dalla Puglia con il team Altamura squadra che do la prima esperienza in serie C che si presenta con una maglia da River Plate molto bella la banda sulle spalle non mi dispiace essendomi spoilerato un attimino ciò che sta per arrivare io la metto in good questa infatti a tal proposito la seconda è una polo di rappresentanza non è una maglia è una polo la terza invece è completamente nera ma ha dei graffi qua e là non l'ho ben capita perché questa è l'unica immagine che ho trovato con una qualità decente però per il momento ok non stupitevi se la vedete scalare più in basso dopodiché audace cerignola che ha la maglia praticamente identica a quella dello Shrewsbury Town cambia soltanto la tonalità di giallo probabilmente il dettaglio bianco attorno al colletto apprezzo il dettaglio verde perché il verde è presente anche nel logo nel ramo d'ulivo in bocca sinceramente non ricordo cosa fia l'animale nel logo dell'audace cerignola cioè stona da matti a livello cromatico però ci sta guardate apprezzo apprezzo lo sforzo ok good sarebbe stato un po' esagerato anche la seconda maglia non è male si perdono forse un attimino di più i colori sociali ma è giusto così visto che è una seconda maglia la metto più in basso rispetto alla prima mentre la terza è verde verde quindi va in me così come è verde la prossima ossia quella dell'avellino che però secondo me ha fatto un lavoro assurdo vi giuro che sembra una maglia degli anni 80 è quella di quest'anno indossata poi lo vedi che è una maglia moderna però cazzo ditemi voi se non è clamorosa la prima maglia dell'avellino poi è verde non può non piacermi vai in pog la seconda invece è l'esatto opposto cambia giusto il colore dello sponsor ma bella anche questa e quindi mi va in good al primo posto mentre della terza non ho un'immagine fatta come le prime due ma suppongo sia la stessa cosa semplicemente con la base nera e quindi anche lei mi va in good avellino ottimo lavoro adz picerno non ho idea di cosa voglia dire adz però se vedo questa maglia dico adz magari rende male perché è un disegno della maglia dato che di foto fatte bene non trovate tra l'altro qua me la segna come away sta maglia non come home vabbè sì no comunque non rende bene manco di persona la prima barra seconda dell'az picerno va in eu ma con la seconda si rifanno belle queste pinstripe qua oh che bellezza gli altri dettagli che non sono le pinstripe riprendono quell'oca barra oro del logo bella me la sento di metterla in pog per il momento sì ma sapendo cosa sta per arrivare potrei farla scendere infine terza maglia che riprende lo skyline di picerno mette la panterona stampata lì in basso te prego guardate perché non è a livelli della prima ma va in me pure lei benevento ma do povero benevento tre anni fa eri in serie A tipo guarda dove sei finito benevento che ha usato delle maglie stock sicuramente la prima e anche la seconda dove però abbiamo questo dettagliuccio di una composizione chimica vabbè quel quid comunque ok la prima e ok la seconda ma anzi va in me e ora premesso che manco la terza mi piaccia più di tanto però quant'è ignorante la strega che lascia le scie così purtroppo non posso non metterti in no ok se ho messo il picerno tre lì non possono mettergli il benevento davanti casertana anche qui altre maglie stock molto se cioè la maglia stock la trovo soltanto un po' triste non la trovo brutta quindi per cui questa maglia mi finisce in ok mentre la seconda è già più carina perché abbiamo queste pinstrapine rosse il resto dei dettagli sono blu scuro dai non c'è male questa te la metto in good però dietro alle altre ah il catania me quanto mi manca il catania in serie A comunque belle maglie cioè le prime molto carucce la striscia nera tra un colore e l'altro secondo me la rende ancora più cazzuta come maglia e quindi la metto molto alta in good stesso discorso per la seconda con queste ascellozze belle importanti con questi blocchi di colori molto molto grossi bella anche lei rende bene nell'insieme questa maglietta poi dettaglio sul colletto sulla manica e e e r a ci sa fare e quindi anche questa te la metto in good la terza invece non mi fa propriamente impazzire l'anno scorso hanno fatto una cosa molto carina con la collata lavica questo giro mi sa di statico della tv di certo non va con le altre sotto ma va tipo qui in ok di certo non insufficiente ma neanche bella prima maglia della cavese al di là proprio di aquila png in basso a destra sinistra per noi destra per la maglia è una maglia pulita però dai mi dà meno fastidio quest'aquila rispetto al puma o alla strega del benevento anzi mi piace anche un po' di più la maglia quindi top te la metto qua dietro l'audacia cerignola con la seconda maglia che praticamente ha un vibe simile alla seconda della carrarese ma come ben saprete a me le macchie non piacciono ciò nonostante la metterei comunque in me perché è più gradevole rispetto a quelle che la seguono poi io questa non la voglio neanche commentare raga ma no sì bene andiamo avanti e passiamo al crotone maglie devastanti del crotone questo giro con le maniche sia della home che della way che vanno a riprendere la spirale greca spirale che tra l'altro nella home si vede anche nelle strisce blu cioè per me è clamoroso lasciamo perdere le onde del mare in basso nella prima ok se la mettiamo nei pantaloncini non si vedono per me crotone maglie clamorose quest'anno anche la seconda che sembra proprio un pezzo di tempio greco preso e strappato e messo su una maglia ottimo lavoro ma poi scusate san vincenzo vero salume di calabria foggia e il foggia è un peccato che non abbia usato effettivamente il rosso nero perché sono maglie nere con dei rossi più le maniche rosse non un gran che la home me davanti alla polo di rappresentanza dell'altamura la seconda invece con queste spennellate sì ok è bianca ma la spennellata gli dà un attimino di carattere non c'è molto altro da dire è una maglia bianca però ecco va davanti a quella della cavese terza e ultima maglia infine carini diavoletti applicati singolarmente senza lo scudo attorno ma nel foggia non è neanche così importante perché sono già su sfondo neutro è un verde boss tanto verde nel girone C sì dai la sufficienza la raggiunge Giuliano che no non è il cane di minecraft di iron blaze pensi una squadra campana ora caro Giuliano al di là del fatto che il logo mio dio quant'ansia mi mette strisce verticali graffiate con il tigrato sotto ignorante ignorante ma almeno ha del carattere quindi vai insieme al catania la seconda invece non mi piace sembra la maglia della squadra della guardia di finanza per giunta investita da una macchina questa va in me davanti alle altre però infine la terza che è arancione ma perché c'è Tony the tiger coi baffoni Tony the tiger coi baffoni per me cioè clamoroso l'in basso Tony mi spiace ma tu mi finisci dopo di che i signori tocca la juventus next gen non le considero nella classifica ma sarebbero state good me e pog e ora signori che bello in latina nuovo logo con rebranding fatto dai ragazzi di modi maglie realizzate da ez che storicamente ha un catalogo formidabile ora il mio dubbio era che queste maglie viste in campo potessero essere un po' pesanti all'occhio in realtà il nero stacca abbastanza bene e viste da lontano anche negli highlights non vedi tutti questi dettagli però ci sono e quindi queste maglie non possono che finire in pogreca non al primo posto però perché al primo posto ci metto la away a me piace infinitamente di più mi hai ripreso una delle strisce della home me le hai messe in diagonale hai il pattern identico su maniche su colletto e poi ce l'hai fatto in bianco tono su tono nel resto della maglia bello quindi un applauso a latina passiamo al messina io se penso al messina mi viene in mente riccardo zampagna quindi tutto un altro calcio tutto un altro vibe ma queste le danno un bel po' di eleganza bellina questa questa la metto in good e la metto in good insieme alla seconda perché anche lei molto elegante molto bella eccolo lì mano nella mano mentre la terza si che sa di riccardo zampagna di parisi di carmine coppola di zorò di rezaei perché ricordo tutti questi nomi ma nonostante mi piace un po' di meno quindi viene ok monopoli e il monopoli ha fatto due belle maglie perché la prima pinstripine classiche bianche su verde gli sponsor tutto sommato sono inseriti in maniera corretta dai non ho molto altro da dire se non che la maglia mi finisce in good cosa come quale preferenza per il colore verde dopodiché la seconda io la voglio premiare particolarmente tanto perché tutti quanti i social riprendono queste due barre verticali bello il fatto che gli sponsor prendano i colori guardate fate bene le maglie del monopoli perché ok è bianca è semplice come tante altre ma almeno questa è presentata bene potenza il potenza mi si presenta con tre maglie semplici questa qua tra l'altro è una maglia che volendo si potrebbe replicare anche su fc proprio con questo modello questi colori però ecco torniamo sempre al discorso delle maglie stock carino il tocco di giallo ecco lo apprezzo quello rispetto alla casertana mentre la seconda non lo so le maniche hanno troppa roba due sponsor otto colori volevo metterla col sestri levante ma in un girone diverso però ti metto comunque in ok in fondo ma in ok mentre la terza è nera e gialla ma abbastanza flat aspetta c'è una scritta io sono un filo dorato non lo so però turbo flat questa non sei tanto diversa dalla chimica del benevento ma con più carattere dopodiché passiamo al sorrento e io non sono sicuro di avere le maglie giuste del sorrento perché io cercando l'ho trovato queste immagini qui ma poi li ho visti scendere in campo con questa maglia e una nera che non ho trovato però questa è più una maglia del girona che del sorrento non lo so è quasi un peccato ti metto qua tra benevento e potenza la seconda con questo azzurro mi sa di maglia speciale e quindi mi va leggermente più in alto ma in realtà letteralmente è più avanti di uno slot e infine la terza c'ha questa barra verticale che è un po' spantegata in giro tutta pixelosa mi sembra di giocare a block swords e anche tu come tante altre finisci nella categoria me capite ora perché vi dico che le maglie bianche sono belle se fatte bene nei dettagli per questo motivo perché se il dettaglio non è il massimo sono maglie blandissime al che splendori mancano tre squadre la terza ultima è il taranto e devo dire bella prima maglia che mi ricorda un po' quella che aveva il milan qualche anno fa non lo so però ci sta buon lavoro e quindi ti metti in gul davanti all'altamura la seconda che è bianca con le spalle enormi non mi fanno impazzire a me le spalle enormi così o hanno una tonalità simile al resto della maglia oppure hanno un pattern carino così no ennesima maglia a me direi di sì davanti al giuliano però mentre io su questa nemmeno mi esprimo guardate io metto da parte l'immagine se posso grazie e la trascino in EU no thanks non è per me trapani oh mio dio oh mio dio non commento neanche posizione basta marò forse la peggiore in assoluto sono troppo sbilanciati il bianco e granata maranto marrone rosso non male invece la seconda che comunque rimane piuttosto classica e con classica ti do dire senza particolari cose che la rendono unica nel suo genere però questa è bellina ti metto dietro la terza del catania infine la terza è un'altra maglia stock realizzata sempre da adidas questo blu scuro blu chiaro dai un colore un po' diverso stacca dagli altri due e anche qui torniamo sempre al solito discorso delle maglie stock e chiudiamo con la turris turris che se non sbaglio è la squadra di torre del greco che quest'anno festeggia gli 80 anni ora mi sembra che ci siano dei coralli sulla manica non vorrei dire una cazzata che nella prima non si vedono e rendono la maglia quindi tutto sommato eh la seconda mi piace leggermente meno perché tutti questi dettagli soprattutto questi cerchi che si intersecano questi diagrammi di Eulero Venn sono un po' troppo preponderanti mentre nella terza oh qua si vedono bene i coralli e sapete una cosa? carucci è una terza maglia come prima non l'avrei sopportata come terza è peculiare peccato avreste cerchio e quindi vi concludo la votazione con un ok per la home un meh per la away e infine un tristissimo meh anche per la terza perciò splendori questa è la mia tier list per le squadre di serie C e quindi ora devo dare una top 3 oh mio dio non sono psicologicamente pronto in ordine sparso credo che la mia top 5 personale sia Latina away Triestina away Crotone home Ternana home e infine eh sono indeciso con la quinta perché o è quella del Pescara o quella dell'Avellino o quella dell'Arzignano Valchiampo ma tu sai che premiare una di queste è difficile forse forse Latina away forse Latina away si distingue parecchio sì quindi un applauso a tutte le squadre di serie C in bocca al lupo per la stagione per favore l'anno prossimo fatemi delle immagini decenti please aarthsi an Grazie a tutti.